Visita in Abruzzo del primo consigliere dell'ambasciata russa Dimitri Gurin, organizzata dall'Associazione degli Italiani Amici della Russia in collaborazione con la Regione Abruzzo. In due giorni Gurin si è recato in varie località della Regione per verificare lo stato dell'arte dell'associazione presieduta da Lorenzo Valoreia ed effettuare un sopralluogo nei territori oggetto della futura visita dell'ambasciatore plenipotenziario della Federazione Russa Sergei Razov. L'ambasciatore tornerà a Montesilvano a ottobre dopo essere stato insignito precedentemente del premio Trecolli dall'amministrazione comunale. Rapporti commerciali è una parte dei rapporti generali nel suo insieme che noi come ambasciata coordiniamo, vediamo di renderli più opportuni, più facili. In questo contesto abbastanza difficile oggi come oggi per le cause che non dipendono purtroppo da noi, questi rapporti comunque si vedono che si stanno recuperando. Vediamo questo giro, il compoto dei nostri scambi commerciali dopo una caduta enorme, importante di ultimi anni dovuta, chiamiamo gatto gatto, queste sanzioni, misure di risposte eccetera eccetera però si vede che già andiamo su. Noi siamo felicissimi per la visa di Dimitri Gudni qui in Abruzzo, abbiamo fatto una o due giorni di conoscenza del territorio, non ci siamo limitati alla provincia di Pescara, ieri siamo stati anche alla provincia di Chieti, nello specifico siamo stati sui Trabocchi, siamo stati ad Ortona alle reliquie di Santo Omaso che tanto care sono agli ortodossi, siamo stati al miracolo eucaristico per la spiritualità, per il turismo spirituale. Contiamo di rafforzare ancora di più questi legami anche grazie all'intervento della regione Abruzzo che ci ha dato la propria disponibilità, noi lavoriamo a stretto giro anche con il presidente Marsilio il quale si è detto disponibile, stiamo studiando e vedendo di portare qualche volo diretto tra l'Abruzzo e la Russia.